Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul canale di Gabriele Di Maggio dove si parla di matematica, fisica, filosofia. Oggi siamo qui per parlare di invece fisica. Mi perdonerete innanzitutto se molte volte guarderò lo schermo del computer ma è per vedere cosa sto scrivendo effettivamente. Intanto voi fate anche la vostra parte e ditemi cosa ne pensate di questa modalità. Visto che ho già usato la lavagnetta grafica, ma non mi facevo vedere e ora spero che mi si vede bene, mi si sente bene. Voi fatemi sapere, ok? Perfetto, prima di andare avanti vi ricordo di guardare sotto in descrizione, è importantissimo. Ci sono tanti link importantissimi, tra cui anche il link per il canale di Alessandro De Concini. Tra l'altro probabilmente in questi giorni mi vedrò per registrare qualche video perché infatti stiamo ricominciando la collaborazione cominciata un po' di tempo fa con quella live sul suo canale. Quindi insomma iscrivetevi al suo canale, ma al di là di questa collaborazione, come lui sarà anche sul mio canale spesso, insomma è un canale da visitare. È un canale per forza da visitare perché ci sono tanti tanti video interessanti. Lui è un esperto di metodo di studio e fa collegamenti davvero molto carini sul suo canale. Perfetto, poi lì troverete tutte le sue informazioni anche che lui saprà divulgare molto meglio. Ora, detto questo, oggi noi siamo qui per continuare la lezione sulla teoria quantistica dei campi. Quindi andiamo a prendere la nostra lavagnetta. Allora, devo stare attento a non coprire le equazioni con il mio volto. Allora, nella scorsa lezione noi siamo riusciti a trovare le espressioni quantizzate del nostro campo partendo dall'equazione di Klein-Gordon. Abbiamo preso l'esempio più semplice, quello dell'equazione di Klein-Gordon con campo scalare e libero, che rispetta ovviamente un'equazione di campo che è l'equazione di Klein-Gordon. E abbiamo trovato, trasformando quest'equazione in un'equazione di oscillatore armonico, si può fare usando una trasformata di Fourier. E questo è il motivo per cui abbiamo anche questa misura qui, dcubo p fratto 2pi greco al cubo, perché noi inizialmente abbiamo espresso il fi di x di t in funzione di un fi di p di t, facendo fi di x di t uguale a integrale, con quella misura, di fi di p di t per e alla ipx, dove px sono presi come vettori e però facciamo il loro prodotto scalare. La cosa interessante è che questa trasformata di Fourier ci permette di cambiare variabili, cioè noi partiamo da delle variabili spaziali e arriviamo ai momenti coniugati di queste variabili, quindi l'impulso, la quantità di moto. E poi, quindi, quantizzando, introducendo gli operatori di creazione e di distruzione, abbiamo ottenuto queste espressioni, vedendo prima cosa succede in meccanica quantistica, perché meccanica quantistica e teoria quantistica dei campi sono molto diverse tra di loro. E vedremo le differenze, anche se ci sono differenze più superficiali, più evidenti, e quelle invece molto più interessanti e più matematiche. Perfetto, quindi, per il campo abbiamo questa espressione e per il momento coniugato quest'altra espressione. Perché a noi servono queste due espressioni? A noi servono queste due espressioni perché la Hamiltoniana fa uso di queste due espressioni. Tra l'altro noi abbiamo anche la Lagrangiana, perché se no non saremmo potuti arrivare qui, e quindi, avendo sia la Lagrangiana e sia il campo che il momento coniugato, possiamo costruirci la nostra Hamiltoniana. Perché proprio la Hamiltoniana? Perché nella teoria quantistica dei campi è importantissimo, quando noi sentiamo la parola quantizzazione, quantizzazione, abbiamo bisogno del formalismo canonico. In quel caso ci serve il formalismo canonico, perché analizzeremo anche questo. Ci sono dei motivi matematici, più che altro, per questo, ma non solo anche fisici. Il formalismo canonico è molto importante per l'evoluzione temporale del nostro sistema. Ma comunque sia, una delle tasche principali della teoria quantistica dei campi è trovare lo spettro della Hamiltoniana. E quindi noi abbiamo bisogno, prima di tutto, di una forma della Hamiltoniana. La esprimeremo prendendo la Hamiltoniana uguale a un integrale volumetrico su tutto il volume della densità di Hamiltoniana, perché molte volte si fa un abuso di parole. Cioè, molte volte non parliamo di Lagrangiana, ma di densità di Lagrangiana. È lo stesso per la Hamiltoniana. O meglio, per la Hamiltoniana invece noi abbiamo proprio bisogno di questo integrale volumetrico. Ora, per calcolarla a noi basterebbe quello che abbiamo qui, e poi vi scrivo la Lagrangiana di Glyn Gordon ed è tutto fatto. Ma voglio approfittarne per parlarvi di una cosa interessante, il teorema di Noether. Allora, il teorema di Noether. Noether ci dice che per ogni simmetria continua della Lagrangiana, del nostro sistema, quindi esiste, questa, diciamo, questa esistenza di questa simmetria implica l'esistenza di una corrente e questa corrente è conservata, quindi significa che il suo quadrigradiente, quindi lungo tutte le direzioni, è uguale a zero. È una carica, quindi è una corrente conservata. Questa corrente ora si può esprimere in un certo modo. Allora, se noi diciamo che la variazione del campo, quindi noi applichiamo una trasformazione, ok? Praticamente significa che applicando queste trasformazioni, diciamo, le equazioni del moto rimarranno invariate. Abbiamo questa simmetria del nostro sistema. Ora, la variazione del campo, diciamo, è essere uguale a questa funzione del campo stesso, ok? Una variazione infinitesimale del campo. Mentre la variazione della Lagrangiana, diciamo, essere uguale a un quadrigradiente di una funzione sempre del campo. Ok? Perfetto. Ora, detto questo, noi possiamo esprimere la nostra quadricorrente come questa, derivata della Lagrangiana rispetto alle derivate del campo, per la nostra funzione x di phi meno f mu. Questa qui è la nostra quadricorrente. Effettivamente ci ritroviamo anche con il controvariante, il simbolo controvariante, perché effettivamente la prima è una derivata con indice controvariante, in realtà, e meno poi un'altra funzione con indice controvariante. Ora, grazie a questa quadricorrente, noi possiamo costruire una carica. La carica sarà uguale all'integrale, su tutto lo spazio, della componente 0, ok? Fisicamente, tutto questo cosa vuol dire? Allora, prendiamo per esempio in meccanica classica, perché questo teorema di Neudor è importantissimo, lo ritroviamo sin, tra l'altro Neudor è stata una grande matematica, questo teorema ha un'eleganza molto particolare, anche in matematica, ma fisicamente che cosa significa? Fisicamente noi abbiamo un sistema, questo sistema è conservato, scusate, questo sistema, diciamo, ci applichiamo una trasformazione alle coordinate del sistema, una trasformazione particolare, una simmetria, è quando questa trasformazione lascia invariato qualcosa, no? Lascia invariato le equazioni del sistema, in questo caso, perfetto, lascia invariate le equazioni del sistema, e quindi noi parliamo di simmetria. Se per esempio abbiamo una simmetria per traslazioni spaziali, cioè, io traslo il mio sistema, ma rimane invariato, come se avessi il sistema di prima, sto parlando di cosa rimane conservato, cosa si conserva, la quantità di moto, ma in tutto questo, dov'è la quantità di moto? È una corrente? No. La quantità di moto è una carica particolare, come l'energia, l'energia che rimane invariata per traslazioni temporali, e poi abbiamo anche il momento angolare che non vedremo oggi, ma lo vedremo più avanti, ci servirà, per parlare anche di spin, e così del genere. Ora, il punto è, nel formalismo, diciamo, tensoriale, noi, ecco variante, noi riusciamo a esprimere tutto, sia quantità di moto che energia, in una sola formula, in una sola equazione. cioè, noi nel caso classico, diciamo, facciamo una differenza tra traslazioni spaziali e traslazioni temporali. Qui possiamo mettere tutto insieme, perché quell'indice mu va da 0 a 3, e la componente 0 indica la componente temporale. Quindi noi siamo in grado, in un certo senso, di poter esprimere tutto in un unico modo. Allora, diciamo che, aspettate, faccio cancella direttamente, abbiamo le nostre x nu, che diventano x nu meno y nu. Cioè, noi abbiamo applicato una traslazione, ma lungo tutte le direzioni, x, y, z, quindi spaziale, ma anche lungo il tempo, perché quel nu va da 0 a 3. Il campo si trasformerà fi di a, fi, ah, è un, diciamo, un indice, diventerà fi a di x più epsilon nu e nu fi di x. La Lagrangiana trasformerà allo stesso modo, come in questo modo, appunto come il campo. Ok, perfetto. Ora, quindi, io sono in grado di esprimermi la mia, la mia quadricorrente. Però, vedete, la quadricorrente, allora, ok, la quadricorrente è un vettore a quattro componenti. Noi qui, però, abbiamo, scusate, una zanzara, abbiamo una, una quadricorrente per ogni spostamento lungo ogni direzione. Quindi noi abbiamo praticamente quattro quadricorrenti. Ognuna da quattro componenti. Otteniamo, in questo modo, un tensore 4x4. Jmu, nu. perché abbiamo, quindi, prima di tutto, la derivata della lagrangiona, che nel nostro caso è la lagrangiona di Klein-Gordon, rispetto alle derivate del campo. Per cosa? La variazione del campo, che noi abbiamo espresso genericamente come una funzione del campo, perfetto. Qua la variazione del campo sarebbe quel enu, fi di a di x. Perché, effettivamente, basta prendere il pezzo finale, meno il pezzo finale. Scusate, il pezzo finale, meno il pezzo iniziale. Pezzo finale, meno il pezzo iniziale, della variazione del campo. Enu, quindi fi, sarebbe, meno la variazione della lagrangiana, che esprimiamo in quale modo? Allora, in questo caso, la variazione della lagrangiana, allora, noi abbiamo, che la variazione della lagrangiana era un quadrigradiente di una generica funzione f mu, che in questo caso sarebbe quella cosa enu, l di x. Questa cosa è la variazione della lagrangiana. Ok? Se facciamo la differenza, intendo. Perfetto. Ora, io posso esprimermi, guardate, la variazione in questo modo. cioè usando una specie di delta di Kronecker praticamente, perché tanto io ho e mu delta mu nu, che sarebbe enu l. E questa enu l la ritroviamo proprio qui. Cioè sarebbe il quadrigradiente di questa funzione. Perfetto. Ora, questa quadricorrente, o meglio, questo tensore, è definito essere proprio il tensore stress-energia. Ti mu nu. La bellezza di questo tensore, questo è, vedete, qualcosa di bellissimo, elegante, perché noi siamo riusciti a esprimere tutte le informazioni sull'energia e sulla quantità di moto, usando un solo, una sola matrice, un solo tensore, il tensore stress-energia o il tensore energia-impulso. Tra l'altro, questo tensore ha anche altre particolari, altre particolari proprietà. Altre particolari proprietà, ma non le andremo a vedere oggi, perché, diciamo, sono particolarità riguardanti le cosiddette funzioni di correlazione. Perché, vedete, noi ora stiamo procedendo, stiamo un po' definendo il nostro sistema matematico, apparato matematico, anche se non è così, perché poi vedremo anche che esistono dei, diciamo, dei modelli assiomatici delle teorie quantistiche di campo, per esempio, Michael A.T.A., grande Sir Michael A.T.A., ha contribuito a un modello assiomatico della teoria quantistica di campo, di teorie quantistiche di campo topologiche, e così via, quindi non parlare in questo caso di apparato matematico, vedremo che da problemi, l'apparato matematico della teoria quantistica dei campi, la nostra matematica non funziona benissimo, e quindi di conseguenza anche la fisica ha molti problemi matematici, la fisica moderna, la teoria quantistica dei campi, ma noi ora comunque, il nostro apparato matematico è molto grezzo, cioè stiamo parlando, semplicemente, di quantizzazione canonica, ma uno dei modi più eleganti, e anche, ma più importanti, più moderni, forse quasi, potremmo dire, per definire la nostra teoria quantistica dei campi, è definire un path integral, una funzione di partizione, diciamo, o io posso aggiungerci a questa funzione di partizione degli operatori di inserzione, ottenendo delle funzioni di correlazione, e vedere che queste funzioni di correlazione sono strettamente legate alla funzione di partizione, con una specie di variazione del logaritmo naturale di questa funzione di partizione, e facendo per esempio tanti giochetti, facendo una variazione rispetto alla metrica su cui, la metrica dello spazio su cui ci troviamo, otterremo particolari operatori, tra cui proprio vedere che, un timunu, per esempio, questo tensore stress-energia, ne è un esempio, ora, quindi, il tensore stress-energia, per la nostra teoria di Klein-Gordon, che ora lo esprimo in forma controvariante, sarà questo, emu-fi-enu-fi, meno la metrica di Minkowski, la metrica Minkowskiana, per la Lagrangiana. Ora, questa, come potete vedere, dov'è l'energia e la quantità di moto? Allora, le cariche, l'energia in particolare, sarebbe l'integrale in dcubo x, della, diciamo, componente 0,0, del tensore energia impulso, mentre, la quantità di moto, che è un vettore tridimensionale, sarà invece, l'integrale, su tutto lo spazio, di T0i, ok? quindi, avrò tutta la, praticamente, la prima riga, del tensore, energia impulso, T01, tranne T00, T00 no, però, T01, T02, T03, sì. in questo modo, ottengo, energia e quantità di moto, ora andiamo a sviluppare l'energia, l'energia, basta che prendo questa espressione, che mu nu uguale a e mu fi, e mu nu a e nu fi, pongo mu e nu uguali a zero, e il gioco sarà, praticamente, fatto. Allora, avrò, perfetto, questa è la mia espressione dell'energia, ora, è proprio questa la Miltoniana, che ci serviva, cioè questa Miltoniana, come potete vedere, l'abbiamo trovata, usando il teorema di Noether, noi potevamo, semplicemente, prendere, campo, con il momento coniugato del campo, e la grangiana, e metterla insieme, perché la Miltoniana, sarebbe una trasformata, di legenda, della grangiana, e avere, praticamente, p per q, derivato temporalmente, meno la grangiana, dove p e q, questa volta sarà p, il momento coniugato, quel pi greco di x di t, per la derivata temporale, del campo, ma, possiamo usare anche, il teorema di Noether, o addirittura, vedremo un modo, ancora più semplice, in realtà, però, dobbiamo capire bene, che, quel modo, più semplice, è, in realtà, un modo, cioè, se io, vi dicessi, facciamolo in questo modo, come abbiamo fatto per il campo, e per, cioè, praticamente, per il campo, per esempio, noi avevamo già l'espressione quantizzata, delle coordinate, nella meccanica quantistica, con gli operatori di creazione, e di istruzione, noi, per ottenere, l'espressione quantizzata del campo, ci è bastato mettere, quell'espressione, delle coordinate quantizzate, in un integrale, ok? Sì, però, eh, potevamo fare lo stesso, con la miltoniana, perché noi abbiamo anche, l'espressione quantizzata, della miltoniana, nella meccanica quantistica, però, eh, no, perché, eh, perché, diciamo, dobbiamo vedere il procedimento, che ci porta a fare quella cosa, ok? Perfetto. Ora, detto questo, abbiamo la nostra miltoniana, ora, la nostra miltoniana, la riscriviamo, e la sviluppiamo, la miltoniana uguale a, integrale in, eh, d cubo x, e, in d cubo x di, anzi, facciamo così, eh, portiamo fuori l'un mezzo, perché tanto lo raccogliamo a fattor comune, integrale in d cubo x di, pi greco quadro, il nostro momento coniugato, più, le derivate, il gradiente del campo elevato al quadrato, più, m quadro, fi quadro. Ora, tenete a mente le espressioni, rispettivamente del campo, e del momento coniugato del campo, ok? Quella pi greco, e quel, eh, fi, allora, noi avevamo un'espressione, usando un integrale, con la misura d cubo p, d cubo p, fratto 2 pi greco al cubo. Ora, qui avremo lo, qui facciamo lo stesso, un mezzo, sviluppiamo, quindi mettiamo integrali su integrali, solamente che usiamo solo, un solo integrale, perché tanto, si può fare, non c'è bisogno di esplicitare, integrali tripli, eh, d cubo x, d cubo p, e usiamo anche d cubo q, perché, prima di tutto, sotto avremo un 2 pi greco alla sesta, perché tanto il d cubo x non ce l'ha un 2 pi greco al cubo, quel 2 pi greco al cubo ce lo portiamo per via della trasformata di Fourier. Ora, abbiamo questo, perfetto, perché p e q è un po' come con gli indici tensoriali o vettoriali in generale, quando facciamo p, lì abbiamo un quadrato, pi greco al quadrato, facciamo pi greco per pi greco, in un caso facciamo con un integrale, con misura d cubo p fratto 2 pi greco al cubo, in un caso integrale d cubo q fratto 2 pi greco al cubo, per ottenere in questo modo, che cosa? Allora, avremo la misura prima di tutto, la è, il coefficiente, scusate, meno, radice quadrata di, omega p omega q fratto 2, perché tanto avevamo, radice quadrata di omega p fratto 2, per radice quadrata di omega q fratto 2, facciamo moltiplicazione, quindi tutto sotto radice, i radicandi, tutto sotto un'unica radice, e quindi omega p per omega q fratto 4, la radice quadrata di 4 è 2, quindi otteniamo questa cosa, per, allora, in un caso abbiamo, ap e alla ip x, più ap aggiunto e alla meno ip, ah, scusate, qui è un, è un meno, meno, il momento coniugato era con il meno, per, a q e alla i q x, meno, a aggiunto q, e alla meno i q x, questa è la prima espressione, ovviamente, potrebbe succedere tra tutti questi meno, tra tutte queste croci, di scordarmi qualcuno, quindi voi poi ditemelo sotto i commenti, più, nel caso, più, in questo, nel caso del, allora, qui abbiamo un gradiente, di un campo, tutto elevato al quadrato, allora, prima di tutto il coefficiente, tanto quello non deve essere derivato, quindi lo portiamo fuori, e sarà, di uno solo, è 1 fratto radice quadrata di 2 omega p, in questo caso, quindi, moltiplicazione tra due coefficienti, avremo 1 fratto 2, 2 sempre sotto fuori dalla radice, perché abbiamo fatto radice quadrata di 4, 2 per radice quadrata di omega p, omega q, per, abbiamo, abbiamo, praticamente, in questo caso, dobbiamo fare già la derivata, la derivata, quindi di un esponenziale, praticamente, niente di complicato, per ottenere, i, pi, a, pi, e, alla, i, pi, x, non abbiamo fatto la derivata, quindi portiamo fuori, la derivata spaziale, quello è un gradiente, e quindi, deriviamo la x, ma, i, pi, non dipende dalla x, quindi lo portiamo fuori, e non è esponente, però, no? Meno, di nuovo, perché, dal, perché l'altra parte, anche se il fi è con il più, dall'altra parte, abbiamo un e alla meno ipx, e quindi derivato, si porta via pure il meno, ip, ap, aggiunto, e alla meno ipx, perfetto, per, per, iq, a, q, e alla iqx, meno iq, a, q, e alla meno iqx, ok? Perfetto. Ora, c'è l'ultimo termine, che è quel più, m quadro, fi quadro. Ok, è caduto, il pennarello, è il pennarello, la penna. Spero non sia successo niente, ok, continuo a scrivere, più, m quadro, fratto, due, abbiamo sempre, il quadrato, quindi il coefficiente, sarà sempre quello, moltiplicato questa volta però, per, m quadro, in questo caso, non abbiamo la derivata, quindi scriviamo normalmente, ap, e alla ipx, più, ap, aggiunto, e, ovviamente non sto mettendo il segnetto per il vettore, vabbè, e alla meno ipx, per, aq, e alla iqx, più, aq, e alla meno iqx, ok? Poi, qui abbiamo tutto, tutto questo è l'espressione da integrare, e quindi fatto, praticamente fatto, in realtà, no, cioè, fatto, però, è troppo, così, è un mega integralone, certo, la cosa è che è tutto fatto di esponenziali alla fine, quindi, non è che sia qualcosa di complicatissimo, anche se in realtà lo è, anche se stiamo integrando su tutto lo spazio, però è uno spazio particolare, cioè sarebbe quel prodotto di, d cubo x, d cubo p, d cubo q, comunque sia, fatti i calcoli, un po', ritroverete, Hamiltoniana, uguale a un mezzo integrale, in d cubo p, fratto 2 pi greco al cubo, per omega p, e poi il, praticamente, l'anticommutatore, l'anticommutatore tra i due operatori, operatori di creazione e distruzione, di distruzione e di creazione, va bene, quindi, otteniamo questa Hamiltoniana, che possiamo ancora scrivere, in un altro modo, come un mezzo, integrale in d cubo p, anzi no, scusate, senza, lo portiamo dentro, perché, questa espressione quantizzata, ce l'avevamo già, come ho detto, a noi ci bastava metterlo dentro, un integrale del genere, come abbiamo fatto con, campo e momento coniugato, per ottenere, per ottenere, omega p, più 2 pi greco, più un mezzo, più un mezzo, comunque sia, sarebbe questa funzione, che praticamente, non è una funzione vera e propria, è una distribuzione, abbiamo, che è uguale a 0, per ogni x diverso da 0, ed è uguale, e va praticamente a infinito, per ogni, per x uguale a 0, quindi, è tutta a 0, ma poi va proprio a infinito, per x uguale a 0, ecco, non abbiamo una vera espressione, della delta di Dirac, analitica, se non, grazie alla funzione, alla trasformata di Fourier, qui abbiamo, che praticamente, l'integrale, da meno infinito, a più infinito, della delta di Dirac, è uguale a 1, questa è una cosa molto importante, ed è da usare questa identità, nei calcoli, di quell'integrale, perché, in quel modo io posso introdurre, la delta di Dirac, e così, molti integrali spariscono, come, come praticamente, abbiamo fatto per arrivare, a questa espressione finale, della miltoniana, quindi, diciamo, che in generale, una delta di Dirac, è n dimensionale, la possiamo scrivere, usando, la trasformata di Fourier, in questo modo, e alla IKx, ok? Ecco, quindi, quella delta di Dirac, tridimensionale, è valutata in P, ma per più uguale a 0, e questa cosa, scusate, dà infinito, quindi, noi abbiamo questo, c'è un problema, perché, abbiamo questa divergenza, per, vediamo un pochino, per, togliere questa divergenza, cosa possiamo fare? dobbiamo, prima di tutto, analizzare, il caso, più semplice possibile, cioè, quello con lo stato vuoto, lo stato zero, allora, noi abbiamo visto, che quantizzando, discretizziamo, lo spettro dell'energia, per l'oscillatore armonico, per esempio, ma in realtà, avremo sempre, questi spettri, discreti, particolari, o magari, anche spettri, un pochino, più complicati, spettri, sia discreti, che continui, ma comunque sia, per l'oscillatore armonico, abbiamo trovato quello, c'è un limite però, andando da questa parte, cioè, c'è lo stato zero, lo stato di energia minima, il vuoto, questo stato viene definito come, l'operatore di distruzione, che agisce, su questo stato, e da zero, come risultato, la cosa, bella, è, che effettivamente, questa cosa intuitivamente, l'operatore di distruzione, è come se ci distruggesse, un po' di energia, ce la togliesse proprio, e quindi, significa che non puoi andare, più in là, e fine, la fine, questo stato di energia minima, il vuoto, viene detto, di vacuum, perfetto, ora, abbiamo questo operatore di distruzione, vediamo, cosa succede, nello stato vuoto, con questo autovalore dell'energia, avremo quindi, e zero, che va, su, sullo stato vuoto, e quindi, quell'integrale diventerà, integrale in decubo p, fratto due pi greco, anzi, in decubo p è basta, perché semplifichiamo il due pi greco al cubo, decubo p, decubo p, per, un mezzo, omega p, delta tre, di zero, cioè, praticamente, sarebbe questo, l'autovalore, ma questa cosa, darebbe in realtà, infinito appunto, quindi, come potete vedere, la divergenza, nasce dallo stato vuoto, e noi dobbiamo preoccuparci, in primis, di questo, dello stato vuoto, perché è da qui che comincia tutto, Per poi andare, diciamo, a togliere questa divergenza, anche negli stati successivi, perfetto, allora, noi, per togliere questa divergenza, dobbiamo preoccuparci, di che cosa sia questa divergenza, da dove esce fuori, allora, diciamo che, ci sono due tipi di divergenze, nel primo caso, abbiamo una divergenza, infrarossi, cioè, che cosa significa, effettivamente, questa cosa diverge, perché noi ci stiamo occupando, di uno spazio infinito, guardiamolo, allora, 2pi greco al cubo, per delta di Dirac, valutata in zero, sarebbe effettivamente, possiamo scriverlo come, allora, siccome la nostra teoria, è su uno spazio infinito, quello che possiamo fare, è ridurla, a una piccola scatola, una piccola scatola cubica, con lato L, e ci imponiamo una condizione, di periodicità sul campo, L tende, quindi, noi, ora, quello che faremo, è un pochino, far tendere, poi, questo lato, a infinito, limite per L tendente a infinito, di che cosa? Dell'integrale, da meno L mezzi, a L mezzi, del, di decubo, x, per, e alla I, p, x, attenzione, perché? Valutato, in p uguale 0, questo qui, siccome, p uguale a 0, avremo 1, l'esponenziale uguale a 1, limite per L tendente a infinito, dell'integrale, da meno L mezzi, a L mezzi, in decubo, x, questo qui, sarebbe praticamente, il volume, no? Quindi, su tutto lo spazio. Perché ho scritto questa cosa? Vi ricordate come ho espresso la mia delta di Dirac? La mia delta di Dirac, delta, in questo caso, 3 di x, anzi, in questo caso è di p, perché la cosa, la cosa che è uguale a 0, sarebbe proprio la mia p. Delta 3 di p, usando la trasformata di Fourier, integrale in decubo, x, fratto 2 pi greco, al cubo, di che cosa? Di e alla ipx. Se io ora moltiplico per 2 pi greco al cubo, quel caso se ne va, e ottengo questa espressione, praticamente, quindi tutto fatto. Quel meno e le mezze, e le mezze, è come se stesse integrando su tutto un lato, praticamente, e io ho appunto questa condizione di periodicità, cioè, praticamente per ogni punto di un lato, per ogni punto di un lato su cui il campo è valutato, avrà lo stesso valore questo campo, anche per il punto, diciamo, equivalente su un altro lato. quindi il punto e le terzi, fidi e le terzi, sarà uguale a fidi dell'altro, nelle terzi, dell'altro lato. È un cubo. Ecco, bene. Quindi, ora, questa divergenza esce fuori, quindi, per quale motivo? perché noi stiamo praticamente valutando un'energia totale, invece di una densità di energia. Allora, noi abbiamo quindi un autovalore dell'energia E0, che però è un'energia totale. Se noi facessimo E0 fratto il volume, questa qua sarebbe la densità di energia e sarebbe anche uguale a che cosa? A D cubo P fratto 2P greco al cubo per di cosa? Un mezzo omega P. Perché noi abbiamo praticamente diviso per 2P greco per delta D dirac, ok? E quindi otteniamo questa cosa. Questo qui, ora, è un'integrale che anch'esso diverge. Cioè, noi abbiamo tolto la delta D dirac, che era il motivo principale per cui l'integrale divergeva, ma invece no, c'è anche un altro motivo. Cioè, il fatto che questo integrale va a infinito, e quindi la densità di energia anch'essa va a infinito, per quale problema? Per il fatto che la P, per grandi valori della P, abbiamo una grande pulsazione. E quindi questa divergenza è una divergenza detta a ultravioletti ed è dovuta a una frequenza molto alta. Cioè, noi, praticamente, il nostro problema è quello che associamo a piccole scale grandi livelli di energia. E questa cosa è una cosa sbagliata. Una cosa sbagliata. quindi, quello che dobbiamo fare, amici miei, è anche togliere questo tipo di divergenza. Allora, il nostro punto è, il nostro modo per togliere questa divergenza è un modo totalmente fisico. Cioè, in fisica a noi non interessa tanto calcolare direttamente questo autovalore E0 di energia. a noi in fisica interessa, diciamo, avere le differenze di livelli di energia. Quindi, quello che noi andiamo a fare è una cosa che si chiama normal ordering. Cioè, togliere questa divergenza è praticamente, se vedete lì, nell'espressione di anticommutazione, noi abbiamo un operatore di distruzione moltiplicato per un operatore di creazione. Il normal ordering consiste nel mettere prima l'operatore di creazione, quindi spostare a destra l'operatore di distruzione, detto in maniera semplice. In questo modo, io ottengo una mia Hamiltoniana in un certo senso normalizzata secondo questo senso. E si indica in questo modo. Integrale in decubo p fratto due pi greco al cubo di omega p per se ora io faccio agire questa sullo stato 0 otterrò 0 come risultato che è quello proprio che voglio come autovalore anche dell'energia cioè 0. Questa è la soluzione. Questa cosa si può applicare diciamo a a una generica stringa di operatori cioè questo mettere a destra l'operatore di distruzione consiste in questo. Perfetto. Ora rimane un piccolo problema cioè questa cosa di cui vi ho parlato oggi introduce a un piccolo ma grande problema che è il problema per esempio della costante cosmologica. Il problema della costante cosmologica perché io ho detto l'energia noi non la misuriamo direttamente ecco in relatività generale succedono dei casini con la costante cosmologica riguardanti diciamo il fatto che noi nella nostra equazione a destra di campo di Einstein a destra abbiamo il tensore stress energia anche qui e noi ci aspettiamo che tutta la somma di punti zeri dell'energia contribuiscono a questo tensore e vengono aggiunti sotto forma di un termine di questo tipo nell'equazione cioè la costante cosmologica per la metrica dello spazio viene aggiunto questo termine e quindi è qui che dovremmo trovare questi contributi ma in realtà le misure ci dicono che il 70% dell'energia ha come proprietà con ha delle proprietà con costante cosmologica che misurata in questo modo in electron volt sarebbe circa questa ecco l'electron volt è una misura importantissima soprattutto modelli atomici sarebbe l'energia guadagnata da un elettrone che si sposta da una regione ad un'altra con differenza di potenziale un volt nel modello standard a scale piccolissime abbiamo attenzione una abbiamo scale di energia di questo tipo questo è un pochino il nostro problema cioè dove vanno a finire quei contributi di energia nella costante dove vanno nella costante cosmologica non sembra che ci siano quindi dove vanno a finire o dove si cancellano magari con cosa si cancellano questo è il problema della costante cosmologica detto in sintesi allora questa lezione è stata principalmente una lezione per farvi capire una cosa molto importante cioè la teoria quantistica dei campi la materia della teoria quantistica dei campi è piena di infiniti è piena 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 zeppa di infiniti e non abbiamo dei veri metodi matematici per toglierli abbiamo delle motivazioni fisiche importanti perché però più avanti vedremo un metodo anche matematico molto importante che è quello della rinormalizzazione però per farvi capire anche che la materia della teoria quantistica dei campi è molto delicata è molto davvero molto delicata quindi noi adesso diciamo abbiamo costruito questa Hamiltoniana nuova con questo metodo del normal ordering che è il metodo più base ma più avanti vedremo anche altre cose ci vediamo quindi con la prossima lezione che credo sarà sull'effetto Casimir però faremo anche delle piccole precisazioni su diciamo l'apparato relativistico e sulla località e cose del genere magari vedremo ma comunque sia credo che il macro argomento della prossima lezione sarà l'effetto Casimir e poi continueremo parlando di particelle di causalità anche quindi torneremo sull'apparato relativistico che quello è molto importante e poi vedremo anche i propagatori i propagatori perfetto allora noi ci vediamo alla prossima spero che questo video vi sia piaciuto e se è così lasciate like commentate condividetelo e insomma aspettate un attimo devo togliere la registrazione da qui ciao a tutti